Noi tra pochi giorni partiamo con due nuovi comparti PIR che hanno preveduto una componente azionaria fino al massimo del 30% fino al massimo del 70%. La particolarità è che questi due nuovi comparti saranno contenuti all'interno di un conto deposito PIRizzato, se possiamo usare questo termine, così che è possibile gestire, fare una gestione complessivamente più flessibile del totale dell'asset allocation sovrappesando eventualmente la componente azionaria o al contrario diciamo sottopesandola. La particolarità di questi comparti è che il cliente che sottoscrive questi prodotti con una modalità piano d'accumulo ha anche una copertura assicurativa tale per cui al verificarsi di determinati eventi come la morte o l'invalidità permanente ci sarà un completamente automatico del piano. Così facendo noi diciamo ci collochiamo sul mercato con un'offerta diciamo anche un po' diversa, più completa e che vuole diciamo sposa bene da quella che è la filosofia del prodotto, nel senso che dal nostro punto di vista il PIR è un prodotto di lungo termine, va pensato in questi modi e va proposto al cliente con questa modalità. È vero che il beneficio fiscale esiste se c'è una permanenza di 5 anni però sembra è più corretto pensare una logica di lungo periodo e come tale noi vogliamo diciamo abbiamo previsto questa logica anche della copertura assicurativa anche per diciamo con una modalità per pensare lo strumento con una modalità che va oltre il singolo investimento finanziario ma con uno strumento che vuole tra virgolette educare tra virgolette il cliente ad un risparmio di lungo periodo anche perché è probabile dal nostro punto di vista e questa è un po' la nostra visione il PIR rappresenterà una componente importante di quello che è il terzo pilastro della pensione, della rendita pensionistica futura. Considerato che il primo è abbastanza incerto, il secondo i fondi di pensione fanno fatica a decollare, il terzo è un po' il fai da te che è aiutato dallo Stato attraverso questo discorso della fiscalità e quindi noi spingeremo molto questo strumento su tutti i nostri clienti perché dal nostro punto di vista il PIR è per tutti, ognuno per le proprie capacità contributive, per la propria capacità patrimoniale però è uno strumento che grazie e facendo leva sull'italianità che è un argomento che tocca la sensibilità e le corde di tantissimi nostri clienti e soprattutto una fascia di clientela abbastanza anziana ma anche clienti diciamo private di alto livello i quali investono a favore del sistema Paese Italia. Come Azimut la filosofia PIR e il sostegno al mondo delle imprese è un qualcosa che noi sentiamo molto vicino al nostro DNA, noi siamo partiti tre anni fa con Libera Impresa che è una serie di iniziative che vuole sostenere tutto il mondo delle piccole e medie imprese dalla fase della start up fino al momento della quotazione e quindi la filosofia PIR è un qualcosa che noi sposiamo al 100% e che diventa quindi una parte integrante della nostra... Io sul rischio Italia sono preoccupato per un'altra cosa, nel senso che i portafogli italiani sono concentrati prevalentemente su conti deposito, montagne di soldi sui conti correnti, liquidità pura, ci sono un sacco di obbligazioni bancarie, titoli di Stato, io non sono preoccupato del 10% o del 15% del portafoglio del cliente che andrà a finire sul PIR, sono preoccupato sul restante 85% che invece è collocato su strumenti dove il rischio Italia non viene considerato, cioè solo la Merck si preoccupa del rischio Italia, noi italiani ci riteniamo di sopra di ogni vera rischiosità, non solo la Merck, anche tutto il resto del mondo, anche il mondo agglossassone, questa cosa la vede in modo pericoloso, per cui io non sono preoccupato sul fatto che ci sia una componente stabile del portafoglio investita in azioni italiane che possono essere small cap, mid cap o anche qualche large cap, sono onestamente più preoccupato su tutto il resto.